Qui siamo al Passo del Bacchello che sarebbe il ponte che c'è vicino a Sottigalli, il ponte di Sottigalli per chi non conosce il Passo del Bacchello. Una volta si chiama Passo del Bacchello perché era un ponte di barche e lo chiamavano così, non so per quale motivo. Qual è la caratteristica di questo posto? Io ti ho portato qui più che altro per cercare di capire cosa vuol dire il deposito, il deposito che interviene sul Secchia. Cosa vuol dire quest'acqua che sedimentando deposita la terra che c'è dentro? Vedi quella casa lì? Quella casa lì venne costruita all'inizio del secolo perché in quell'epoca il Secchia faceva una piena ogni volta, ogni tanto. Quindi la gente era anche propensa a fare una casa in Golena perché tanto quando veniva su, veniva su una volta ogni due o tre anni, non era un grosso problema. Fanno la casa, la abitano, la abitano fino agli anni 70, poi le piene sono così, anche allora, le piene anziché una volta ogni tre, quattro, cinque anni viene una volta all'anno e quindi non abbandonano la casa, viene abbandonata. La casa chiaramente crolla nel tempo però è interessante vedere come le finestre del primo piano che una volta si trovavano a un'altezza, adesso quella della stalla era un'altezza di 1,80, vedete le finestre della stalla, quella lì sotto, adesso praticamente sono a livello del terreno. È molto facile pensare che dagli anni 70 arrivare adesso qui si è formato un deposito di almeno un metro e mezzo, almeno. Quindi questo fiume diventa sempre più pensile, cioè quando vai piena il fiume va sempre più su, più su rispetto ai paesi della campagna circostante. Rispetto all'altra golera che è qui di Piazza. Ecco, poi questo si vede ancora meglio guardando questa golena, quando queste piene aumentavano di frequenza, i proprietari di quella casa fecero costruire questo argine che difese la proprietà. In effetti, se vediamo la differenza di quota di questa golena che non era difesa e questa che era difesa, si vede proprio a occhio almeno una differenza di un metro e mezzo, di due metri di deposito. Ma che significa che il fiume ha trasportato tanta terra? Significa che nel corso di questi ultimi decenni il fiume perlomeno si è alzato di un metro e mezzo. Ma il problema è legato al fatto che il Secchia ha tante golene. Sì, ritengo che il Secchia sia sicuramente il fiume più golenato dell'Emilia-Romagna, ma secondo me anche dell'Italia. Ho controllato queste cose misurando fisicamente le golene e siamo attorno ai 1500 etteri di golene. Quindi c'è questo spazio fra l'alveo del fiume e l'argine, da Modena fino alla foce, di circa 1500 etteri che vengono coltivati chiaramente. Ma quando arriva il deposito, la golena trattiene perché l'acqua nella golena si ferma, diventa morta e quindi deponde tutto quello che ha. L'acqua che arriva marrone nella golena, piena di terra, quando c'è la piena e che rimane lì per qualche giorno, quando va via dalla piena è bianca, vuol dire che ha depositato tutta la terra. E abbiamo fatto dei calcoli, guardando un po' le piante di frumento che chiaramente mostrano un gambo bianco quando la terra si deposita, misurando questo gambo bianco abbiamo visto che almeno un dito di terra si ferma ad ogni piena, quindi un centimetro e mezzo di terra. Ecco, cosa si dovrebbe fare a questo punto? La soluzione è questa qui, noi dobbiamo considerare che la golena aumenta la velocità di deposito, la golena che ci salva perché funziona come una cassa di espansione per contro al difetto di facilitare il deposito nel fiume. Il fiume come il Panaro non ha questo problema, è molto meno pensile del Secchia perché tutto il detrito viene portato direttamente in Po e da qui al mare. si forma pochissimo sedimento, mentre invece il Secchia ha questa quantità di golena enorme, quindi facilita il deposito del sedimento e il Secchia diventa sempre più pensile. E misurando gli altimetri degli argini il Secchia risulta anche sicuramente il fiume più pensile dell'Emilia-Romagna, più pensile ancora del Reno. Quindi considerando queste cose il lavoro da fare qual è? e cercare di allargare il fiume che attraverso queste golene chiaramente si è ristretto sempre di più. La larghezza del Secchia ormai è quella di un fossato, siamo attorno ai 20 metri, 20 metri del fossato che c'è nel castello degli Estensia Ferrara, cioè è un fossato, non è più un fiume, dobbiamo riportarlo ai suoi 50 metri che era la larghezza che c'era negli anni 70. Non bisogna scavare il fondo, il fondo va benissimo, bisogna allargare il fiume, se allarghiamo il fiume aumenta la portata. Chiaramente per allargare il fiume bisogna togliere quella foresta che è frutto dell'abbandono totale della vegetazione ripariale, bisogna togliere la foresta, allargare il fiume, dopodiché il Secchia riprenderà la sua velocità, che è quella che serve per togliere l'acqua dai monti, farla passare direttamente al Po senza rischio per la nostra bassa pianura modenese. Bisogna partire subito a fare questo lavoro, la prossima estate bisogna vedere delle ruspe, delle macchine in movimento terra nell'alveo che allargano questo fiume e che lo rendono più veloce. Adesso viene una piena e dura 4-5 giorni, le piene all'anno, torna a dire, diventano, anziché una, diventano 6, perché il fiume è semplicemente chiuso, non sgronda più, è come avere un lavandino con lo scarico intoppato, che uno apre il rubinetto e venga giù un filino d'acqua o che uno lo mette al massimo, questo lavandino è destinato a riempirsi e prima o poi l'acqua verrà fuori. Io, malgrado, seguo queste cose perché abito a 5 metri dall'argine del fiume, mi piacerebbe non interessarmi di queste cose, ma mi tocca farlo perché casa mia è lì. Però, voglio dire, penso che il fiume sia un problema di tutti, non solo mio, è un problema di tutta la provincia, Secchi e Panaro sono le grondaie della pianura, quelle che portano l'acqua dai monti la portano direttamente al Po, se si rompono la pianura si allaga, è un problema di tutti, diventa un problema per l'industria, per le abitazioni, per i paesi, dobbiamo tutti renderci conto che viviamo in un terreno basso, in un terreno che se non viene gestito in maniera corretta per quello che riguarda lo scarico delle acque, e avrà sempre dei problemi di questo tipo.